Ciao, in questa lezione imparerai a trovare e a raccogliere blocchi colorati che si trovano lungo il percorso del robot. Mi raccomando, segui la lezione con attenzione fino in fondo, perché questa tecnica è alla base della maggior parte delle sfide che potreste incontrare nelle gare di robotica. Il professor Mattoncini! Per questa lezione utilizzeremo di nuovo la struttura motrice Spike che trovate nell'app Spike Prime o sul sito Lego Education, a cui aggiungeremo questo strumento per catturare i blocchi che si trova nelle istruzioni della struttura motrice 2. Modificherò leggermente il robot per aggiungere questo sensore di colore rivolto di lato. Vi mostro come. Adesso vi spiego la missione. Il robot, lungo il suo percorso, dovrà trovare questo blocco rosso, perlomeno questo blocco multicolore ma gli farò vedere il lato rosso, catturarlo, portarlo con sé indietro di 15 cm e rilasciarlo. Siccome il programma è abbastanza complicato, è necessario, come al solito, fare un po' di chiarezza. Scriviamo il copione per questa missione. Si chiama pseudocodice, ti ricordi? Usiamo carta e penna. Dice perché carta e penna? Posso scriverlo al computer? Sì, è vero, e anch'io lo scrivo al computer per semplicità e per mostrartelo, però sono abbastanza convinto che l'atto stesso dello scriverlo con la penna sulla carta attivi dei processi cerebrali per cui te lo ricordi meglio, fissi meglio le idee e poi dal lato pratico potrai semplicemente tenere il foglio davanti mentre traduci blocco per blocco, riga per riga il tuo copione nel tuo programma Scratch. Quindi vediamo come potrebbe essere un possibile copione. Come ho già detto, questa non è l'unica soluzione possibile. Io ti mostro una delle soluzioni. Il bello poi è che ognuno può inventarsi la sua. Cominciamo con l'impostazione dei blocchi in movimento, come al solito. Quindi, motori, velocità, accelerazione, distanza. Dobbiamo aprire la gabbia. Poi dobbiamo partire a dritto. Dopodiché dobbiamo aspettare che il sensore veda il blocco rosso. Poi dovremo fermarci non appena si vede il rosso. A questo punto, siccome la gabbia è davanti, dovremmo fare delle manovre per portarci con la gabbia esattamente davanti al mattoncino. Io ci scriverò qui genericamente fare delle manovre per avvicinarsi al blocco rosso. Questo lo dettaglieremo in seguito durante il programma con delle prove sul campo. Chiudo la gabbia per intrappolare il blocco rosso. Per tornare indietro dovrò girare a destra di un quarto di giro. Gira a destra di un quarto di giro. Dopodiché vai avanti, ovvero torna indietro, di 15 cm. Alla fine dobbiamo rilasciare il blocco, quindi di nuovo aprire la gabbia. Ecco, ora che tu ci creda o no, il grosso è fatto. E ora implementiamo il programma in Scratch. Nuovo progetto, blocchi parole, crea. Zoom, 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 zoom. Allora, cominciamo a implementare il nostro copione che tengo qui sott'occhio. Eccolo qua. Allora, primo step, impostazioni dei blocchi in movimento. Prendo, imposto i motori, imposto la velocità, imposto la distanza, cioè quanta distanza fa il robot con una rotazione delle ruote. Dopodiché devo attivare la tavolozza altri movimenti, qui era già attivata, perché l'avevo già usata prima, e imposto l'accelerazione del movimento su lento. Questa è la configurazione iniziale che avevamo visto nel copione qua, impostazione blocchi in movimento. Adesso dobbiamo aprire la gabbia. Per fare questo ci serve un nuovo tipo di blocchi, che ancora non avevamo usato, cioè i blocchi motore, che controllano un motore alla volta. E adesso spunta fuori un nuovo blocco. Il nostro motore grande che controlla la gabbia è sulla porta E. Spunta fuori, dicevo, un nuovo blocco, dalla traduzione orribile. E vai al percorso più corto alla posizione 0. Quindi porta il motore alla posizione assoluta 0, cioè porta la tacca sul pignone in corrispondenza di quel segno che c'è sul corpo del motore, cioè su quel pallino. Ora, il problema è che questa preposizione è sbagliata. Vai sul percorso più corto, attraverso il percorso più corto. Di nuovo, è una traduzione oscena del Go Shortest Path to Position. Tanto ormai si è capito che questa traduzione farà qua da tutte le parti. Va bene, possiamo scegliere anche in senso orario o in senso anti-orario. Con questa opzione, diciamo, il programma sceglierà la direzione che permette di fare meno strada possibile. Dopodiché, andiamo a vedere. Apri Gabbia ha fatto partire dritto. Questo lo sappiamo fare. Ok, andiamo qua, abbiamo movimento a dritto. Ah, però, siccome devo cercare un blocco colorato, magari questa velocità è un po' troppo elevata, perché rischiamo di perdere il blocco. Poi magari no, però, in gara vince il robot preciso e non il robot veloce. Ok, imposta velocità di movimento sul 30%. Adesso che dobbiamo fare? Dobbiamo aspettare di vedere rosso. Aspettare di vedere rosso. Io devo aspettare qualcosa. E quindi dobbiamo andare nella scheda di controllo del flusso. Attendi fino a quando. La condizione logica che dobbiamo aspettare è che il sensore di colore veda rosso. Poi, ricordi, dovevamo fermarsi di colpo. Facile. Scheda movimento, arresta movimento. E ci siamo. Andiamo avanti. Scorro un pochino in su. Per capire meglio che il robot ha visto il blocco e si è fermato, aggiungerò un segnale acustico. Un bip. Un bip abbastanza acuto. Poi, vediamo il copione che dice. Fare delle manovre per avvicinarsi al blocco rosso. Ora, siccome io un po' di prove le ho già fatte, ho preso delle misure, ho visto che il robot si ferma con le ruote un po' prima del blocco rosso. Siccome voglio poi ruotare verso il blocco rosso, io ho già fatto alcuni tentativi e ti faccio vedere la soluzione, ma ti invito a provare da solo. Quindi io vado un pochino avanti per altri 6 centimetri e porta l'asse delle ruote in linea proprio col blocco rosso. Dopodiché giro a destra, quindi muovi verso destra sul posto, quindi 100% di sterzata per, ricordi, mezza rotazione per fare un quarto di giro verso destra. E poi mi avvicino un altro pochino al blocco, quindi mi muovo avanti verso il blocco per altri 2 centimetri. Questo dovrebbe portare il blocco più o meno all'interno della mia gabbietta. Queste sono le mie manovre. A questo punto dobbiamo, vediamo un po', chiudere la gabbia. Dovremo tornare nella scheda motori e scegliere di nuovo il blocco. Vai al percorso sul motore E, vai al percorso più corto sulla posizione. Devo chiudere la gabbia, quindi deve andare in giù. Ho già fatto delle prove per andare in giù. È la posizione 270. Qua, vedi, motore E, la posizione del motore cambia e puoi vedere, provandolo, qual è la posizione giusta per tirare giù la gabbia. Adesso dobbiamo girare a destra di un quarto di giro, poi andare avanti e tornare indietro. Quindi dovrò di nuovo ruotare verso destra di un quarto di giro. Destro, duplica. Ora me l'ha copiati tutti. Butto ciò che non mi serve e incollo qui il blocco. Adesso vado avanti per 15 centimetri. Quindi muovi in avanti per 15 centimetri per tornare verso dove sono venuto, non esattamente da dove sono partito. E, ultima operazione, devo rilasciare il blocco. Adesso qui, questo è opzionale, ma a me piace arrestare il programma esplicitamente, altrimenti il programma resta in esecuzione anche se la sequenza è terminata. Vediamo come funziona. Beh no, ne direi. Questa tecnica è la base per risolvere la maggior parte delle sfide che troverai nelle gare di robotica come WRO, World Robot Olympiad, oppure First Lego League. Adesso prova a modificare il programma per permettere al robot di trovare blocchi di colori diversi. Dovrai avere l'accortezza di modificare il blocco per mostrargli un lato diverso, oppure lo puoi proprio smontare per mostrargli altri colori. Io ho usato i mattoncini della scatola Spike Prime, ma tu puoi usare tutti i mattoncini che vuoi. Mi raccomando perché il cubo deve essere di queste dimensioni, cioè largo 4 unità al Lego e alto almeno 5 mattoncini, altrimenti la gabbietta non ce la fa intrappolarlo e portarlo con sé. Se la lezione ti è piaciuta, prendi il blocco colorato e cliccalo forte contro il tasto mi piace. Non perderti il prossimo video perché ti mostrerò come usare il sensore di distanza per far capire al robot dove si trova e raccogliere oggetti posizionati a distanze predefinite. Resta giovane, gioca al modino. Ciao.